Musica Io li appello sempre come i tre moschettieri del teatro napoletano i tre direttori artistici del Neveu Teatro Depoche parlo di Peppe Miale qui accanto a me poi c'è Sergio Di Paolo e Massimo De Matteo Peppe Miale una nuova stagione artistica che riparte sempre possiamo dire all'insegna della qualità ribadire il concetto che io sempre sostengo nei miei articoli che il vino buono sta nelle botti piccole Eh sì, noi siamo molto piccoli quindi il vino deve essere per forza buono perché la quantità non è sicuramente all'altezza però la qualità speriamo di sì noi crediamo fortissimamente nella nostra progettualità artistica che si connota rispetto a quello che siamo noi siamo tre attori e quindi di conseguenza quello che amiamo vedere e raccontare anche poi per quella che è la caratteristica dello spazio e quella della grande possibilità per l'attore per il performer, per il cantante, per il monologhista di esprimersi in un rapporto diretto con il pubblico per cui tutta la nostra stagione va a connotarsi in questo senso qua sono otto spettacoli che abbiamo scelto con grande entusiasmo perché rispondono a tutte le caratteristiche di cui dicevamo poco anzi abbiamo grandi interpreti come Antonella Morea, come Lalla Esposito come Mariano Bellopede che insieme a Francesca Colapietro ci accompagna in un viaggio su un artista straordinario quale Lucio Dalla Lalla Esposito invece ci accompagna in un omaggio all'amico magico come da sottotitolo per meglio dire in un omaggio favoloso a Nino Rota mentre Antonella ci racconta della sua carriera che è una carriera prestigiosissima e importante e quindi è un percorso che attraversa tutta la sua carriera raccontando delle canzoni che ha cantato piuttosto che dei monologhi che ha interpretato grande spazio alla musica però grande spazio in assoluto alla figura del performer quindi non solo cantante ma anche monologhisti allora ci sarà Giovanni Allocca a raccontarci per la regia di Massimo De Matteo la meravigliosa per quanto travagliata storia di Enzo Tortora che è una figura importante della nostra della storia dell'Italia non solo televisiva e non soltanto perché poi ha avuto il problema che ha avuto di vicissitudine giudiziaria ingiusta che ha dovuto subire la rassegna invece poi comincia con un altro straordinario performer e questo lo posso dire per quanto è un po' l'acqua io, l'acqua è fresca che ci riguarda direttamente che Sergio Di Paola che con il suo meraviglioso savoir-faire di clown surreale o come dice il suo regista di riferimento Lucia Allocca il suo essere fantattore cioè attore fantastico ci racconta ancora una volta la storia di Mr. Alone nelle sue le disavventure di Mr. Alone che è lo spettacolo che dà inizio che dà inizio alla stagione il 19 e 20 dicembre abbiamo ovviamente poi due appuntamenti molto importanti con la prose del primo già parlato che è quello che ci racconta la storia di Enzo Tortora l'altro invece è Piccoli crimini coniugali di Eric Emanuele Smith che ci viene proposto una versione veramente preziosa da Antonio Davino dalla regia di Antonio Davino con lo stesso Antonio Davino e con Gioia Miale c'è poi un altro spettacolo che vede la regia di Sergio che è Non ci resta che vivere con Leda Conti che è un semiserie ironico caleidoscopio sulla figura della donna e non a caso andremo a rappresentarlo in debutto proprio l'8 marzo come duopo che sia e credo di aver detto sì ho detto tutto se non ho messo semplicemente l'ultimo spettacolo che è uno spettacolo di una compagnia giovane che si chiama Resistenza Teatro che per la regia di Diego Son Maripari va a proporre un curiosissimo e interessantissimo almeno prospetticamente parlando adattamento dell'Odissea dell'Odissea di Omero che chiuderà la stagione a maggio una stagione ripeto ricca di 8 appuntamenti che come meravigliosamente detto speriamo essere di qualità e che proporremo con grande entusiasmo a un pubblico che speriamo premi tutto il nostro impegno e la nostra passione credo che almeno questo ce lo meritiamo il pubblico insomma sarebbe bello che una città come Napoli avesse la possibilità di riempire anche queste piccole sale non solo quelle più grandi noi siamo felici quando vediamo i sold out nelle grandi sale cittadine io penso che una città come Napoli dovrebbe avere la forza di riempire per 8 appuntamenti anche 50 posti del Teatro de Poche avesse la città come Napoli